Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILIP fare attenzione alle condizioni meteo con pioggia lungo tutto il percorso. Per il cantiere aperto per i lavori di manutenzione al viadotto del Turboni ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla strada regionale 436 Francesca ha senso unico alternato il restringimento di carreggiata per lavori all'altezza del chilometro 16 fino al 31 marzo. Per avverse condizioni meteo i collegamenti con le isole potrebbero subire variazioni o cancellazioni. Orsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!